... Questa è una scultura ambientale che si chiama Spilli ed è praticamente un'opera galleggiante sono degli elementi verticali che galleggiano sull'acqua e che si sposano con questo ambiente che è molto particolare ho voluto lavorare sul lago Exesnia perché è un lago nato da 20 anni a causa di tante vicende un lago che prima non c'era cioè noi di solito ci troviamo di fronte alla natura che ci fa trovare già apparecchiato tutta una serie di bellezze naturali che noi conosciamo da sempre questo invece è un discorso inverso è un lago che è nato in tempi recenti e mi interessa molto lavorare sull'ambiente che cambia la scultura sottolinea con questa sua forma di Spilli la presenza di questo luogo in pratica gli Spilli ricordano un po' quelli che usa Google per segnalare la presenza di zone geografiche per segnalarle di conseguenza la fioritura di questo canneto artificiale su un lago che è metà naturale, metà artificiale diciamo così con la forma degli Spilli segnala proprio la presenza al mondo di questa nuova entità naturale che è assolutamente nuova uno di questi elementi è dotato di un microfono che quindi riesce a registrare e a trasmettere il suono la sonorità che viene da sotto livello dell'acqua del lago e a contatto con l'aria l'acqua è conduttrice di suoni quindi praticamente a noi sembra silenziosa ma in realtà tutto ciò che avviene anche al di sopra dell'acqua viene riverberato come suono quindi è molto ricco questa registrazione poi che cosa succede? che verrà rielaborata dal musicista da Simone Pappalardo che farà insieme con Salvatore Insana che è un videoartista faranno due serate in due gallerie romane di Make e Curva Pura faranno degli eventi di live electronics quindi di musica interpretata, suonata dal vivo accompagnata da dei video tratti però dalle sonorità prese dal lago e da spilli grazie